In seguito dalla polizia, dopo aver forzato un posto di blocco, ha speronato una volante. Non contento, una volta raggiunto, ha aggredito due agenti con calci e pugni, prima di essere definitivamente immobilizzato. Ha fatto di tutto per sfuggire ai controlli un cinquantenne tranese, protagonista di una folle corsa per le strade del centro di Barletta. L'uomo, senza patente, era alla guida di un'auto, senza assicurazione. Per questo, quando si è trovato di fronte un poliziotto che gli ha intimato l'alt, ha schiacciato il piede sull'acceleratore e ha tirato dritto, facendo nascere un pericoloso inseguimento tra manovre azzardate, veicoli e pedoni schivati per un pelo. Negli ultimi istanti della rocambolesca fuga, il cinquantenne ha anche speronato l'auto di servizio prima di andare definitivamente a sbattere contro un ostacolo, ma non si è voluto arrendere. Sceso dalla macchina, ha proseguito la sua corsa a piedi e, quando è stato raggiunto, ha provato a divincolarsi prendendo a calci e pugni gli agenti, minacciandoli e ferendo uno di loro ad una mano. Alla fine, i poliziotti hanno avuto la meglio. Immobilizzato e ammanettato, il fuggitivo è stato condotto presso il commissariato di Barletta. Dopo gli accertamenti del caso, l'uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari su disposizione del PM della Procura della Repubblica di Trani. Dovrà rispondere di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni aggravate e danneggiamento.